Grati di questa presentazione, anche quest'anno, grati di avervi ospiti. Oltretutto abbiamo la fortuna di avere come presentazione quello che potrebbe essere e dovrebbe essere la nostra punta di diamante, ovvero il nostro giocatore di riferimento. Speriamo di poter fare un'annata di altissimo livello come quella di anno scorso. Dovevamo trovare un giocatore che mettesse in condizioni tutti i propri compagni di diventare ancora più forti. Io credo che Kenny, quello che ci ha fatto vedere in questo mese e mezzo di preparazione, è quello che si è messo innanzitutto a disposizione della squadra. Quindi questo per noi è molto importante perché significa che è entrato con l'atteggiamento giusto, con la giusta umiltà, anche se magari forse a volte poteva fare qualche punto in più, ma ha preferito fare un assist per il proprio compagno. Quindi questo credo che sia il giusto atteggiamento che deve avere chi è veramente leader, non solo perché è un giocatore forte, ma chi è leader nella testa. Secondo noi Kenny deve essere il leader che ci accompagna nei momenti di difficoltà, nei momenti invece in cui abbiamo bisogno anche di mettere in ritmo altri giocatori e Kenny credo che su questa parte qui del proprio gioco sia questo tipo di giocatore qui. Soprattutto abbiamo bisogno di un giocatore che sia leader sempre negli allenamenti, nelle partite più importanti, meno importanti fino a giugno dell'anno prossimo. Con Kenny abbiamo un progetto biennale ed è un progetto che deve riportare Kenny a giocare dei campionati più importanti. Molto semplice. Ciao, I'm super excited to be here. This is a, you know, an exciting challenge that, you know, I've been looking forward to, it's an honor to be here and I'm thankful that you guys, you know, trust in me to help lead the team into a good direction. We've been working extremely hard, you know, for about a month now and I'm super excited about the team. We got a good group of not just basketball players, but personalities and I'm excited, you know, for Sunday and, you know, and the rest of the season.